questo è il radio dj dopo la mezz'oretta in compagnia dei moda ritorniamo al dinamo camp tornata serena 45505 sempre il numero che lì che vi aspetta ma con serena c'è anche sofia buongiorno che è una super sorridente 15enne della provincia di verona che è venuta a raccontarci la sua storia in quanto frequentatrice si può dire del dinamo camp quando ci sei stata ci sono stata dal 2010 fino all'anno scorso quindi tre volte hai esaurito i tre bonus perché se non sbaglio c'è una regola che sarebbe tre volte poi basta però io conosco qualcuno noi abbiamo conoscenza e sofia se vuoi continuare insomma come dinamica se potrò ecco sono i nostri volontari i nostri staff quindi si sei stato in quanto sofferente di una patologia che tu hai dalla nascita praticamente che è la spina bifida in cosa consiste è una malformazione del sistema nervoso centrale e che mi ha provocato paralisi degli arti inferiori e poi i problemi urologici diciamo che sto molto meglio di tanti altri fortunatamente certo ma comunque non hai una vita facilissima perché mo perché tu dici muovi comunque le braccia sì 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 infatti faccio danza per me avere due braccia è come avere quattro gambe certo perché comunque in qualche maniera fai delle figure no con questa sì ma anche nella vita di tutti i giorni cioè ho scoperto che le braccia hanno un'utilità più grande di quella che magari può sperimentare una persona che può usare braccia e gambe certo che poi io le posso muovere le gambe fortunatamente diciamo che sei un po limitata in alcuni movimenti io sì sono quasi normale si può dire fantastico mi piace molto la tua positività insomma però c'è stato un momento della tua vita quasi normale in cui questa cosa ti pesava tanto immagino da piccola che ne so le scuole elementari insomma si diciamo che non mi sono mai abituata del tutto perché ovvio che ci sono sempre i momenti un po così certo però adesso c'è ho imparato ad essere più autonoma diciamo che mi importa anche un po meno del giudizio degli altri mentre da piccola magari ci stavo più attenta e questo periodo di adolescenza che per molti magari è un periodo un po negativo invece per me è un periodo positivo perché diciamo che modestia a parte però io sono un po più grande di altri bambini in effetti ti vediamo no credo un po dai più matura insomma mi sembri ecco le difficoltà aiutano a crescere anche se se ne farebbe volentieri a meno però no il risvolto positivo è quello di sì sì infatti è una cosa anche che aiuta molto ad affrontare i problemi perché se vedi si impari a vedere le cose da un certo punto di vista fin dalla tenera età se possiamo dire così cioè è sempre bello e ti aiuta e consiglieresti a famiglie con bimbi malati in difficoltà così proprio il perché dovessi raccontare così no ma io direi la mia opinione in tre parole c'è il dinamo camp ti fa dimenticare di essere malato e che bello sì ed è una cosa che non si prova tutti i giorni quindi c'è se se potessi proprio convincere con tre parole una un bambino e la sua famiglia a partecipare usi userai questa frase la tua famiglia come ha vissuto queste due tre vacanze la prima volta in particolare allora la prima volta è stata un po traumatica ma più che altro perché mi sono trovata c'era un po come si può dire sopraffatta dalle emozioni vedermi in un posto nuovo e quindi magari non l'ho vissuta proprio appena anche perché a causa di problemi di salute sono arrivata a metà settimana e però le due volte dopo c'è stata proprio una metamorfosi cioè e mi sono accorta solo dopo di quanto mi sarebbe mancato qual è la cosa che hai fatto che ti sei sorpresa a fare per esempio l'arrampicata lo sopevo ma tanto tu hai due braccia che sembrano quattro no quindi ti tiravi su però c'è quando ti trovi davanti alla parete pensi non ce la farò mai invece dopo ti trovi cioè come se dovessi affrontare anche un problema nella vita beh è chiaro è molto metaforica no è molto e ti dà una grandissima casa mia assolutamente poi ho sempre avuto un carattere abbastanza insicuro e infatti pensavo sempre di essere in qualche modo inadeguata certe situazioni e quindi magari ero molto ansiosa poi quando ho visto che riesco a sopportare certe situazioni meglio di quello che pensavo sono stata molto contenta 45505 se volete che questo che abbiamo raccontato continui ad essere un valore adesso